Allora io in star run qua, che poi è andata così, ho fatto alcune cagate ma gli ho fatto delle true charge o comunque degli attacchi messi precisi precisi ma al pixel quindi ne vado fiero tipo anche mentre eri in aria ottimizza per il danno, meraviglioso. Buono buono, rifallo però ho fatto meglio. Si sta un meme nella community. Come faccio ad andare veloce nella speedrun? Poi fai quello che ha fatto Pest, che è quello che ha il record mondiale, ma non sminchiare questo rng qua, davvero ho perso un sacco di tempo. Ah mi son dimenticato che io in teoria adesso dovrei montarlo. Oppure facciamo questo, I guess. Ve lo monto dopo. Ah no, ora entra la paralisi. Ora urla. Paralisi, paralisi. Paralisi, paralisi. Eccola. Era un colpo fuori. Porco di isa. Mi si è girato il personaggio malissimo. Dovrebbe riuscire a fare lo stesso, sorry. No, no. Su charge l'ho preso qua, buono. Altri sassolini qui. Mi debolisco anche la coda, così. Sì, almeno fai un po' di dps, perché tanto non... Cioè... Anche reali, tanto a sto punto. Sì, sì, va giù. Setappati che sta per scendere. Eccolo. Eccolo Pgence. Faccio. Per allora. Tadla non mi taste il vano. non era parte dei piani però vabbè ho visto un'occasione low call in teoria testa vabbè non lo so cosa stavo pensando a che tipi di attacchi potevi fare perché tipo io prima mentre anche l'avevi cavalcato ora non questa era in quell'altra gli faccio gli attacchi normali perché riesco mentre anche qui è appiegato a fargli danni comunque tra poco da andare teoricamente in che io ho sparati troppi ma non ce le ho su quest'arma ma perché c'è questo svegliato a decidere se è stronzo non è da rimontare avrà pochi hp ma che vuoi che con quella provocarti eh lo dico per esperienza va bene ti ho tirato un torno eh lo so per questo mi ero attaccato perché sapevo che era bassissimo se fosse entrato si risparmiava ma la vuoi salvare ma si intanto magari se ne si può fare un'altra però 24 mi sa che è la bestron è vero a bestron quanta roba dovrò cancellare il nuovo record abbiamo fatto cose a un dego tipo io che l'ho montato ma non dovevo e altre altre robe io che l'ho fatto flinciare cioè l'ho fatto cascare proviamo l'ultima l'ultima Grazie a tutti.